In Abruzzo soltanto l'8% dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni immunizzato. Ma il vaccino è lo strumento più efficace e sicuro per contrastare la diffusione del Covid-19 tra i più piccoli. Lo ribadisce il professore Francesco Chiarelli, presidente regionale della Società Italiana di Pediatria, professore ordinario di pediatria, direttore della Clinica Pediatrica dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, direttore del laboratorio di endocrinologia e diabetologia pediatrica dell'Ateneo. Invita i genitori a vaccinare i propri figli. Come si sa la vaccinazione è stata resa disponibile nei ragazzi dai 12 ai 19 anni durante l'autunno e dal 16 dicembre anche nei bambini dai 5 agli 11 anni dopo l'approvazione dell'EMA e della nostra AIFA in Italia. Mentre nella fascia di età tra i 12 ai 19 anni la percentuale di ragazzi vaccinati è significativa, si raggiunge in tutta Italia e anche in Abruzzo una percentuale che varia dai 70 al 77% dei ragazzi dai 12 ai 19 anni, nei bambini più piccoli, dai 5 agli 11 anni, la percentuale di bambini attualmente vaccinate con due dosi nella regione Abruzzo è intorno all'8%, quindi molto bassa rispetto a quello che si attendeva e con una dose intorno al 18-19%. Quindi abbiamo ritenuto di raccomandare ai genitori e a tutta la popolazione di non sottovalutare il fatto che i bambini possono essere affetti da questa malattia anche gravemente. Noi abbiamo avuto in clinica pediatrica numerosi bambini con sintomatologia grave, talvolta anche molto grave, quindi l'unica via per poter proteggere i bambini è quella di vaccinarli. Ma quando vaccinare i bambini che hanno già avuto l'infezione? Se il bambino ha avuto l'infezione da SARS-CoV-2, ha avuto Covid-19 e sono trascorsi tra i 6 e i 12 mesi, può rifare dopo 4 mesi almeno la vaccinazione anti-Covid e poi farà la seconda dose a distanza di tempo. Se invece il bambino si è ammalato dopo la prima dose, quindi ha avuto la prima dose di vaccino ed è venuto a contatto con Covid-19, deve aspettare almeno 4 mesi, contrariamente a quello che normalmente si fa, perché tra le due dosi, come sappiamo, intercorrono 21-28 giorni. C'è una sintesi di quello che ho detto sul sito della Società Italiana di Pediatria che chiunque può consultare gratuitamente.